L'approvazione del decreto sulla incandidabilità nasce dalla attuazione di una legge il cui primo firmatario è il sottoscritto da Ministro della Giustizia e che è stata approvata dal Governo Berlusconi. Noi non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere l'utilità del decreto sulle incandidabilità perché nasce da una nostra legge e poi perché non vi è alcun nesso con il nostro presidente che è colui il quale ha voluto. Questo disegno di legge è colui il quale ha voluto questo disegno di legge e che ha anche la certezza di essere assolto perché nulla ha a che vedere con i processi che lo vedono interessato. Per cui il problema dell'incandidabilità riguarda i condannati passati in giudicato e Berlusconi siamo certi che sarà assolto perché i processi che gli sono stati intentati sono del tutto privi di fondamento.